La Corsa Campestre, organizzata da Atletica Santa Lucia di Piave in collaborazione con il Comitato Provinciale della FIDAL e con il Patrocinio del Comune in Mareno di Piave, assegna i primi titoli del 2017. Domenica 15 gennaio, a Mareno di Piave, vanno in scena i campionati provinciali di Cross a Staffette.